è la vostra radio è la radio che ama chi l'ascolta è Radio Zimari Web con Radio Zimari le emozioni continuano buongiorno ben ritrovati amici su Radio Zimari in compagnia di Sasa e Antonio Staiti giovedì 8 settembre 2022 e siete sempre all'ascolto di Radio Zimari Web e allora prima di cominciare 331 28 24 922 questo è il nostro numero di telefono e voi potete chiamare fare una dedica dedicare una canzone richiedere una canzone o magari fare due chiacchiere ecco parlare un po' di quello che volete ecco insieme e noi visto che ora siamo già quasi pronti pronti siamo pronti per partire andiamo al disco pilota amici arriva Tommaso Paradiso magari no a Radio Zimari amici disco pilota di questo giovedì 8 settembre 2022 guido piano tanto non voglio arrivare e se si stanca pure il freno ma è lei o non è lei? certo che è lei è proprio lei Radio Zimari Web quello che ti piace a te per andare via di corsa nel weekend le foglie la strada due moto che mi fanno fare una casina sul fiume con gli amici in barca sulle pici ti sei presa le stelle le notti che giro e non dormo i sogni che faccio e il giorno le parole che ti ho scritto e già che ci sei allora prenditi pure sta canzone mentre bevo una caca all'autogrill col volume a cannone per restare svegli e poi di angove per sentirmi meglio e non dimmi davvero che ti risveglierei lunedì se il suo casino nel petto il casino nel letto l'ultimo pacchetto e poi magari smetto o magari no Tommaso Paradiso a Radio Z mari amici con questo fantastico singolo datato 20-22 uno dei brani più ascoltati insieme insieme a quell'altro brano che scrivete voi qual è Tommaso Paradiso magari no o magari sì ci vorrebbe un caffè altro che Coca Cola appena svegli infatti si vede un po' di papere e nel frattempo ricordo visto che abbiamo appena cominciato ragazzi Radio Zimari state ascoltando Radio Zimari in compagnia di Sasa Santomauro e Antonio Staiti e che trasmettiamo da Panarea Isole e Olie e Olie e Olie Allora prenditi pure ste canzone mentre bevo una Coca all'autogrill col volume a cannone per restare sveglio e un po' di un cover per sentirmi meglio e non dirmi davvero che ti risveglierei un lunedì senza un casino nel petto un casino nel letto l'ultimo solo se ascolti Radio Zimari puoi volare con la fantasia e salutiamo così Tommaso Paradiso magari no dall'album Spice Cowboy dove comunque ci sono grandissimi eh brani ecco scritti da lui ecco ma soprattutto eh scrive cose davvero vere e come dice Antonio se vuoi ascoltare la più bella musica ascoltare Radio Zimari dove parla d'amore e noi amici dopo tanto tempo ritorna con noi Paolo Belli parlare con i limoni goodbye my friends da Sassà Santomauro ed Antone Seiti da Panarea su Radio Zimari e dove signore che guardi le mie rughe io io e te che mangi le mie acciughe sei sempre lì a parlare dell'età ma è proprio necessario poi la roba che ridomando e poi ma proprio è necessario poi variare uno vario 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 come me è bella quella canzone che parla della pioggia della Francia e non fa confusione in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire è proprio necessario poi roba che mi domando poi tutto da dimostrare poi che è vero sì che è vero è vero è vero che verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni io sarò pronto lì a parlare con i limoni uno che giacca uno che verde uno che grida ma non si arrende uno che piscia da sotto in su uno che canta solo I love you quanta fatica per farsi accettare con le canzoni una vita intera per rincorrere due o tre illusioni uno che scappa uno che grida uno che guida ma non si fida uno che scrive non con l'accento poi fa l'amore per il momento sì sì lo so c'è la crema per le rughe sì 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 lo so c'è anche la crema per le acciughe in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire è proprio necessario poi roba che mi domando tutto da dimostrare poi se vero sì che è vero è vero è vero che verrà il giorno che spariranno tutti i rompi i coglioni Paolo Belli con questo singolo un po' rag un po' funky e un po' di parlare un po' con i limoni eh beh questo mi mancava parlare un po' con i limoni ma lui ci siamo abituati all'uscita dei di qualche brano ecco un po' così Paolo Belli amici a Radio Zimmari a parlare con i limoni se non ascoltate Radio Zimmari siete fuori dal mondo con le canzoni all'amico Caverno gli ha mai perdonato di aver fatto canzone uno che è giallo uno che è verde uno che grida ma non si arrende uno che fiscia da sotto in su e tutti che cangolano e annori andiamo ancora avanti amici salutiamo Paolo Belli arriva P-Rex e il comi per averti a Radio Zimmari amici nuovo singolo anche per lui e tutto questo amici a Radio Zimmari che trasmette da Panarea Isola e Olia in studio Sasa e Antonio Stai per averti ucciderai ucciderai davvero entrerai in guerra contro Dio in guerra contro cielo ma proprio non riesco a dare tempo al tempo questo amore è violato forse finirà perché so che cos'è che cos'è che non va tra me il mio nome il mio nome è Antonio Antonio Stai sono quello degli stacchetti di Radio Zimmari Web non voglio farti male ho paura di cambiare so 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 dovrei lasciarti andare oh 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 terra chiama chiamo te sul tatto di un hotel distrarresti la sera con un cielo così non sbatti le palpe brando strass per settimane sulle spalle cosa provi per ora ho dei modi che odio modi che ho cambio modi che ho per averti sono solo dentro un bar tu sei sola dentro un bar mina forse ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo non so che fare di me pianificare per due sembra ci faccia del male perché so che cos'hai che cos'hai che non vado a mettere ma io ti darò il mio lato peggiore e un coltello nel cuore ma ma no 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 non voglio farti male ho 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 paura di cambiare so 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 dovrei lasciarti andare oh ma proprio non riesco a dare tempo al tempo questo amore violato forse finirà perché so che cos'hai che cos'hai che non va p-rex ericomi amici per averti questo fantastico singolo uscito davvero da poco è uscito il primo di di settembre e devo dire che comunque ancora una volta non si è smentito Radio Zimbre tenervi compagnia insieme a Sassan e Antonio Staiti ci siete voi e noi andiamo ancora avanti ritornano nelle mie scalette ecco dopo un po' di tempo i Cienzio e Bail con mi ami a Radio Zimbre amici si 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 Grazie a tutti. 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 per questo perché comunque diciamo un sacco di cazzate reali però un sacco di cazzati reali e ho combinato un danno ripartiamo ripartiamo chiedo desirte amici Abrameteo e Anna Mena insieme a Zeppel Radio Zimmeri ad oltranze vuoi ascoltare della buona musica? Vai su Radio Zimmeri la radio penultimo brano di questa giovedì 8 settembre 20-22 amici prima live di giornata e dopo di me arriverà la nostra donna delle stelle Nadia Solange grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A Radio Zimari amici penultimo brano in scaletta e noi come dicevo prima fra un po' ci sarà Nadia la nostra donna delle stelle e dopodiché ci ritroveremo noi questa sera sempre in compagnia di Antonio Staiti e il sottoscritto intorno alle 20, 20 e 30. E noi amici pinguini tattici nucleari dentista Croazia a Radio Zimari. Di quelle notti insonni nere pece come mani di benzinai in cui ci sentivamo i Rolling Stones schiacciati. Con Radio Zimari e Sasa Santomauro la musica ha tutto un altro sapore. Crede nell'oroscopo e quando muori non ti dice dove vai, ti chiede solamente come è andato live. Non metto più magliette di gruppi rock ho fatto strada stima con la 1 stop a 27 e puoi morire oppure diventare un po' più po'. E tutte le venti rompono si scelgono e poi si sciolgono ma noi siamo fermi a quella notte di un agosto magico. Roma-Milano in quattro ore ci vuole tanto, tanto cuore. Sulla portiera c'era scritto dentista Croazia, era una figuraccia ma costava poco. Di settimana portava gli anziani a Zagabria per dei denti perfetti ed un sorriso lo costa. Ci ridevano dietro le spalle ed è così che sono diventate larghe. Aspettando qualche cosa che non arrivava mai, ti possiamo confrare. Non metto più magliette di gruppi rock ho fatto strada stima con la 1 stop a 27 e puoi morire oppure diventare un po' più po'. Radio Z Maria Web, la radio che fa moda. Ci scelgono e poi ci sciolgono ma noi siamo fermi a quella notte di un agosto magico. Radio Z Maria Web, la radio con la R maiuscola. e io aggiungo una buona guida oltre ci vogliono quattro ore comunque Roma Milano io Roma Bologna ci impiego due ore e mezza tre ore credo non mi ricordo perché sono anni che non salgo in macchina anzi no, sto dicendo una bugia siamo saliti l'anno scorso ma non è che abbiamo fatto tappa ecco, non abbiamo fatto tutta una tirata Pinguini Tattici Nucleari ultimo brano in scaletta prima live di giornata Radio Zimari in compagnia di Sasa e Antonio Staiti non metto più magliette di gruppi rock ho fatto strada stima con l'auto stop a ventisette puoi morire e ricordo il numero di telefono anche se volete inviare dei messaggi anche dopo la fine della live noi se richiedete un brano cercheremo di metterlo nella live che verrà dopo 331 28 24 922 331 28 24 922 questa è Radio Zimari in compagnia di Sasa, Antonio Staiti e Nadia Solange Radio Zimari Oui, c'est moi e grazie ad Antonio Staiti siamo arrivati davvero al termine devo dire che è carina sta sigla è cominciata davvero bene chi è? anzi, è Papica e Anan Scappato ah, ok ok, ok eh sì, un po' di calma visto che ancora ci siamo svegliati l'ennesimo caffè no, sì no, sì, sì, no eh sì, stavo parlando grazie ancora no come dicevo prima grazie ad Antonio Staiti che lo ritroveremo più tardi insieme al sottoscritto grazie a tutti gli amici italiani e non perché siete davvero in tanti in tanti, in tanti ragazzi dobbiamo arrivare a 25.000 facciamo il possibile passaparola campanellina su YouTube su YouTube no, ancora non abbiamo neanche non siamo arrivati neanche a dieci ascolti ecco a dieci iscritti per cui puntiamo moltissimo direttamente sulla radio per cui ragazzi fate i bravi iscrivetevi amici questa è Radio G ma io sono Sessa Santomauro insieme ad Antonio Staiti e vi rinnoviamo l'appuntamento a questa sera ciao 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 fai l'amore con la musica di Radio Zimmeri Radio Zimmeri fa l'amore con te Sessa Antonio Nadia se metti le iniziali insieme fa semplicemente San un altro santo sul web San Zimari a Panarea Radio Zimmeri suggestioni sonore da sentire e da vivere ascoltare la miglior musica Sintonizzati su Radio Zimmeri a Panarea A Panarea c'è una web radio e sapete come si chiama? Si chiama semplicemente Radio Zimmeri ai microfoni e alla parte tecnica Sessa Santomauro gli stacchetti di Antonio Staiti il mio nome il mio nome è Sessa Sessa Santomauro 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 Sessa Santomauro